Partite, le cavalle dell'Incisa 2017. Subito Paiardina, la più veloce in fase di partenza, proverò a ripetere lo schema dell'ultima volta. In scia si mette immediatamente la compagna Alhambra che precede Maeva di Breme. A largo Lago Meuse, poi Gritta Ventura parla con la Luna, più dietro Pamparana. Paiardina non ha paura di scandire frazioni brillante in testa e conduce avendo sempre in scia Alhambra la sua compagna di colori. Al terzo posto Lago Meuse in giubba tutta rossa, su Maeva di Breme in giubba gialla e rossa. Al suo esterno in blu e bianco a Galoppi invece Gritta Ventura, poi ancora Parla con la Luna in giubba rosa, leggermente più arretrata Pamparana in giubba verde con le cuciture al cap gialli. Questo è lo schema, sempre davanti Paiardina che va a completare il retto opposta con la sua lunghezza di margine nei confronti di Alhambra, a largo della quale è sempre sistemata Lago Meuse, poi Maeva di Breme insieme alla stessa Gritta Ventura, a largo Parla con la Luna e Pamparana in coda. Gruppo che si è leggermente ricompattato ora, visto che in questa fase Paiardina sta cercando di respirare. Al secondo posto Alhambra che va in anticipo costante su Lago Meuse con le due che curvano larghe, a ridosso Parla con la Luna insieme a Gritta Ventura, poi Maeva di Breme a chiudere il gruppo Pamparana. Intersezione delle piste, sempre in vantaggio Paiardina per le corsie interne, tutte le altre invece scelgono corsie centrali con Alhambra che va in pressing, con Lago Meuse in scia Gritta Ventura e ancora Parla con la Luna. L'attacco da parte di Alhambra che è passato in vantaggio, Lago Meuse che si va ad impegnare il suo insegnamento, poi Gritta Ventura e Parla con la Luna, più dietro invece le altre e ancora in vantaggio Alhambra insiste nel suo attacco Lago Meuse. La lotta è molto serrata tra le due, si avvicinano anche Parla con la Luna e Gritta Ventura e poi ancora Pamparana. Lago Meuse che insiste all'attacco di Alhambra la quale si difende, Gritta Ventura che prova a tirare fuori la pedalata giusta insieme alla stessa Pamparana. Lago Meuse che è passato in vantaggio nell'ultimo tratto allunga ancora Lago Meuse che chiude la partita, mentre per la seconda moneta Gritta Ventura va ad aggredire a battere a fil di palo la stessa Alhambra.